Il velocista Filippo Tortu si racconta a 360 gradi sul palco del Foglio a San Siro. Anzitutto le emozioni contrastanti provate sulla Taraflex Olimpico di Tokyo quest'estate, passando dall'amarezza per la finale mancata nei 100 metri piani all'esplosione di gioia provata con la staffetta 4% che lo vide, ultimo frazionista, andare a coronare la splendida prestazione del quartetto formato anche da Patta, Desaloe e Jacobs. Prima della finale, le parole di Tortu, noi volevamo vincere e sapevamo che poteva essere possibile. Io spiego ancora il velocista, volevo dare tutto me stesso per non avere nessun rimpianto una volta chiusa l'avventura a cinque cerchi al momento del ritorno a casa. Una Tortu che ha già proiettato i prossimi obiettivi, la stagione partirà da Nairobi in Kenya, poi Doha e poi Faro su mondiali ed europei. Filippo Tortu, partiamo dal passato sul palco del Foglio a San Siro, le emozioni che ha lasciato Tokyo 2020 a mese di distanza si sono sedimentate o sono ancora vive? Si sono sedimentate ma quando le va a rispolverare tornano vive e come se fossero successe ieri penso che sarà una cosa che mi durerà per fortuna per tutta la vita. Però diciamo che sono già state archiviate, ecco quello sì, l'obiettivo la stagione dell'anno scorso per quanto bella si è già conclusa da parecchio tempo, adesso inizia quella nuova e quindi sono già concentrato su tutt'altro. Si comincia dal Kenya, da Nairobi, poi Qatar-Doha, poi mondiali, questo è un po' il cronoprogramma sportivo per l'anno in corso e la stagione che sta per cominciare. Sì, adesso farò una gara in Nairobi e una in Qatar nel giro di una settimana, poi ci saranno altre tappe di avvicinamento ai campionati del mondo e poi tutto si concluderà con i campionati europei. Obiettivi Filippo Tortu? Obiettivi sono quelli di arrivare, di centrare una finale ai campionati del mondo e prendere una medaglia ai campionati europei a livello individuale e con la staffetta naturalmente di cercare il più possibile di riconfermare quanto ho fatto l'anno scorso. Grazie a tutti.